Per approfondire questo quadro commerciale abbiamo anche voluto sentire le valutazioni di Cico, un'altra importante struttura di commercializzazione di melone e cocomero che si trova a Tresigallo. Il referente tecnico Ferruccio Petrarchincio ha confermato che sia per melone che per cocomero la contemporaneità tra le produzioni del nord e del sud dovuta all'andamento climatico ha creato un esubero di prodotto e determinato prezzi bassi. Per quanto riguarda i competitori esteri la Spagna ha più superficie e più produzione e si impone nella GDO perché riesce a garantire continuità e quantità. Inoltre quest'anno al momento della raccolta nel nord Europa principale destinazione estera delle nostre produzioni faceva freddo e questo ha ridotto i consumi. Alla luce di questo quadro non certo positivo sentiamo come hanno reagito i prezzi. Pensando alle cocomere viaggiamo dell'ordine per tutta la stagione considerando il mese luglio e metà agosto possiamo pensare all'agricoltura una base di 5, 6, 7 centesimi. Io naturalmente sto parlando di un prodotto senza semi. So per certo che comunque nei miei viaggi attraverso l'Italia per verificare le condizioni degli impianti che molto prodotto crimson è rimasto in campagna senza prezzo naturalmente. Da senza semi rispetto alla crimson quindi ci ha dato la possibilità perlomeno di portare a casa un prodotto e di remunerarlo se così si può dire all'agricoltore cosa che non è successo indubbiamente per la crimson. Per quanto riguarda il melone quali sono stati i prezzi invece? Se facciamo riferimento alla serra abbiamo una media di prezzi che viaggia intorno ai 35 centesimi e non sopporta neanche le spese. Per quanto riguarda il tunnelino possiamo parlare anche qua 30-35 centesimi. La cosa cambia invece nel periodo del mese di agosto quindi con la cultura di pieno campo dove inizialmente avevamo avuto delle problematiche nella commercializzazione legate all'andamento stagionale se ricordate verso la prima decada del mese di agosto abbiamo avuto un po' di abbassamento di temperatura invece da ferragosto in poi un po' la penuria di prodotto che c'è stata con temperature molto elevate hanno fatto sì che la fase finale della produzione o la fase diciamo così ottunnale della produzione di melona abbia potuto spuntare di prezzi molto 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 interessanti 45 50 55 centesimi e questa è la produzione. Quali sono le varietà di melone che il mercato ha richiesto maggiormente? La GTO chiede un prodotto che sia mediamente buono conservabile quindi facciamo riferimento in questo contesto al classico melone retato italiano se poi vogliamo sindacare per mercati locali quelli del nord est o forse zona di mantua ecco qui in questo contesto possiamo parlare di tipologie tipo arpero tipo meloni lisci questi prodotti qua hanno un maggior valore aggiunto perché trovano gli amatori le varietà invece di anguria nel contesto nostro noi parliamo di seedless facciamo riferimento a tipo jubilee noi utilizziamo soprattutto C0 un siglato che quest'anno ci ha dato delle risposte molto molto importanti sia in termini di produzione che in termini di conservabilità. Questo prolungamento dell'estate ha in qualche modo aiutato il posizionamento sul mercato del nostro prodotto? Sì indubbiamente sì in termini di commercializzazione quindi per i commercianti come come noi sia alla campagna quindi agli agricoltori. La GDO ha dato adeguato spazio al nostro prodotto rispetto a quello estero? Sì anche perché gli italiani sono tradizionalisti preferiscono il melone classico retato italiano. I prodotti a marchio hanno aiutato le vendite? Nel momento in cui c'è esubero sempre di prodotto la situazione è probabilmente per tutti sicuramente nei momenti in cui il prodotto invece ha dei quantitativi che vengono sorbiti senza alcun problema dal mercato il mercato il prodotto a marchio ti può dare dei risultati dal punto di vista economico maggiori. La qualità ripaga sia il produttore che le vendite? Sicuramente sì sicuramente sì perché facendo riferimento alle nostre esperienze commerciali e facendo riferimento poi alle mie esperienze tecniche cerco di mettere in essere di mettere a far mettere la cultura agli agricoltori delle varietà che abbiano una base genetica molto elevata sia per quanto riguarda i meloni che per quanto riguarda il cocomere. Le nostre tipologie fanno fede agli sciper americani dove abbiamo una base di partenza per quanto riguarda solitamente per quanto riguarda il grado B di 14 gradi B. Per quanto riguarda l'ecocomere noi parliamo sempre di senza semi anche in questo contesto noi mettiamo a fuoco quella che è la qualità organo elettrica del prodotto e la conservabilità dello stesso per riuscire a portare sul mercato un prodotto che comunque sia valido ancora dopo 3, 4, 5 giorni di raccolta. Questo ci permette di arrivare sul mercato estero con un prodotto veramente ancora buono. Dobbiamo puntare a questa eccellenza perché non abbiamo possibilità come gli spagnoli di avere grosse superfici sulle quali contare in termini produttivi. dobbiamo puntare sull'eccellenza perché noi facciamo eccellenza.